Ma il Dio è con noi, senti cosa diceva, mi dica lei è un testimone di Dio, sta seguendo la dottrina a parte, voi siete una dottrina sbagliata, Cristo è Dio, lei crede che Cristo è Dio, mi dica lei crede che Cristo è Dio, lei crede che Gesù è Dio, se lei non crede a questo lei è un eretico, lei è un eretico, si ravveda dei suoi peccati, Gesù Cristo è la Dio, la verità è la vita, l'unico che venne dal cielo per illuminare il cuore degli uomini, l'unico che venne dal cielo per liberare il cuore dei peccatori, perché il cuore dell'uomo lontano da Dio è schiavo del peccato, è schiavo del vizio, è schiavo della malvagità, ma solo Gesù Cristo può liberare la tua anima, il tuo cuore dalla confusione, dalla perdizione, dallo smarrimento di questo mondo, Cristo è la luce, Cristo è la verità, Cristo è la salvezza, gridiamo che Gesù è la speranza per l'anima tua, tu hai bisogno di Cristo, pecatore e pecatrice, avvicinati a Gesù prima che sia tardi, questo mondo sta andando alla perdizione, questo mondo sta andando verso una fine, questo mondo sta andando verso l'udizio, avvicinatevi al re dei re, avvicinatevi a lui, che morì alla croce, per darti il perdono, la remissione dei peccati, alleluia, la purificazione e la guarigione, per darti un cuore nuovo, alleluia, Gesù ti vuole dare un cuore nuovo, invocalo, pregalo, e avrai la pace, avrai la guarigione, ma non solo la guarigione fisica, ma la guarigione spirituale, la guarigione dell'anima, la guarigione del cuore, alleluia, perché Cristo è venuto a guarire quelli dal cuore rotto, Cristo è venuto, alleluia, a purificare i peccatori, Cristo è la speranza, alleluia, Cristo è la salvezza, gloria a Dio, amè, vogliamo andare avanti a praticare, alleluia, 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 alleluia. Grazie.